Altra intervista notturna, visto che continua in Piazza Grande l'esibizione, Amos Amaranti appena finito di suonare, un talentosissimo chitarrista, conosciutissimo, sei su tutte le enciclopedie del rock italiano, sei a Modena, oltretutto sei veramente un pezzo di storia come chitarrista. Ma Dio, ci sono dei chitarristi molto bravi, c'è Cortera, c'è anche dalle vostre parti, c'è Farniele che è di Parma, poi lo stesso Soglieri sono avanti insieme, nelle parrocchie addirittura, agli inizi al di Circo Liar ci sono avanti insieme, Maurizio Soglieri, poi ci sono dei chitarristi molto bravi nel campo jazz, però purtroppo non escono mai perché, a parte che fanno anche altri lavori come anche io stesso, purtroppo faccio un altro lavoro, ma non lo so, tutti lo sostengono, però io mi recuto che sono un tarista poi mediocre in fondo. No, no, non è vero. La tua avventura musicale più conosciuta è stata quella con i Nomadi, è stata un'avventura iniziata, cos'era, il 69, 70? No, 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 72, 72, mi chiamò dentro Corrado Bacchelli, ma tutto, perché questo spettacolo, questo avvenimento di questa sera è all'insegna del Baritalia, vorrei riconoscere un po' le cose. Baritalia, fucina di gruppi, Puto Vandelli l'ho conosciuto, è venuto anche a casa mia a sentire dei pezzi quando ero 17 anni, poi a 18 anni sono entrato nei Nomadi. Conobi, Corrado Bacchelli che purtroppo è scomparso in questi ultimi mesi ed è il produttore anche di Alan Sorrenti. E quando io cominciai a frequentare il Baritalia a 15 anni, conobi questo ambiente, perché ero attratto proprio da questo ambiente, così. E dopo un po' mi trovai a suonare subito con la sua ragazza, la Cristina Hansen, la quale partecipò pure come comparsa nel film Tre Passi nel Delirio di Fellini. E io mi ritrovai subito a fare attrazione a 17 anni. Poi dopo pochi mesi, sempre con il tastierista, entrai nel mio primo gruppo Piero Cottonfields, Piero Cotto, il Cottonfields di Asti, che tra l'altro adesso mi ha chiamato perché vuole fare un revival anche lui. Dopodiché, dopo pochi mesi mi arrivo a chiamare, ho penato, mi chiamavo per entrare in Nomadi, poi sì, sono rimasto lì poi in un town, nove mesi, il tempo di io vagabondo... Puglice l'incisione? No, l'incisione no, l'avevo già incisa, io entrai proprio a San Vincent, il disco per l'estate. Purtroppo i video sono stati perduti tutti in un incendio alla RAI, proprio, cioè io non ne trovo uno, infatti ho provato a contattare anche la RAI di Roma, non sanno niente, nel 72 è proprio tabula rasa. Ho un incendio, io penso che sia vero, perché altrimenti su YouTube ci sarebbero. Prendi le tue incisioni con i Nomadi, quelle sono state? Sono stati Vola, Eterno e Quanti anni ho? Sì, esatto, quei tre brani li ho fatto con loro, ho inciso con loro. Sì, che sono il Vola Eterno, abbastanza psichedelici, no? Sì, sì, si, Vola, c'era una solo bellissima, che ho preso anche la pubblicità della BAC, mi ricordo, ho preso il mio solo, no? E nella televisione, cioè durante la pubblicità, si sentivo il mio solo, loro una sera in casa ho detto, mamma, ma questo qua sono io? Ah, beh, è vero, si senti? Avevo preso un estratto del mio solo. Quindi hai fatto un sacco di soldi con quella incisione? Niancun, Vialetto Modenese. Vialetto Modenese. Senti, cos'è rimasto dello spirito Grand'Italia da Modena? Ma ci sono alcuni personaggi che sopravvivono, c'è Savigni, Franco Anderlini, Franco Anderlini, sì, beh, perché siccome li vedo poco sono spariti anche dalla mia mente, cioè voglio dire, però no, a parte che purtroppo come sapete in quel periodo c'era la mia architettura, da parte delle droghe, insomma, ci sono fatto un calvario, insomma, però molti insomma quelli che sono riusciti a passare attraverso le macrobiotiche, le religioni, le droghe, tipo nella piena e metà, sono inseriti, li vedo, abbiamo dei ricordi, sono molto lontani, però adesso quest'anno in questa manifestazione hanno voluto riproporre un remember che molto probabilmente si protrarrà per i prossimi anni ogni 29 settembre, penso. Bene, quindi sarà un'occasione per rivederci in quest'altro anno. Sì, sì, sì. Grazie a te. Ciao, ciao.